Pochi minuti fa alla barriera di Fiastra hanno ricevuto il diaconato transeunte, transeunte per gli esperti vuol dire una tappa verso il sacerdozio, verso il presbiterato meglio. Sono sei candidati giovani, iniziamo tra virgolette dal più anziano a presentarsi. Marco Petracci, 36 anni, sono di Macerata. Poi passiamo ad un extracomunitario, diciamo. Paolo Renato, 31 anni, brasiliano. Io mi chiamo Gerardo, vengo da Honduras, 32 anni. Io sono Paolo, dalla Polonia, ho 30 anni. Sono Isaac, vengo dalla Spagna, ho 28 anni. Antonio, vengo da Collevario, Macerata, 35 anni. Rapidissimamente, che il tempo è tiranno, così si dice, ci dite soltanto questo, ognuno che cos'è che vi ha spinto a fare questa scelta, non la scelta del diaconato solo, ma la scelta di un cammino di fede e che cosa è accaduto nella vostra vita in maniera molto sintetica, però un fatto determinante. Un fatto determinante, un'esperienza di vita comune con tanti giovani della mia età, oramai sei anni fa. Questo mi ha fatto innamorare, tanto per dirlo brevemente con la parola di Dio, con San Paolo, il desiderio è aumentato in me di farmi tutto a tutti pur di guadagnare qualcuno. Passiamo a Paolo Renato. Bene, io ho più che altro un cammino di fede in questi anni, il cammino neocatecomenale, che poi mi ha fatto piano piano scoprire che Dio mi chiamava a dare la vita per lui per sempre. Quindi questo anche con una guida spirituale, così piano piano tutto si è fiorito. Bene, poi? Anche io posso dire che attraverso il cammino neocatecomenale ho ricevuto questa chiamata, perché quello che ho ricevuto gratuitamente è che l'amore di Dio lo devo dare agli altri. Per me, ecco, se io sto oggi qua è per la gratitudine, perché il Signore attraverso appunto il cammino neocatecomenale mi ha fatto riscoprire il suo amore nella mia storia, anche con i miei peccati e nelle mie sofferenze. E se ha salvato me, come posso stare zitto e non annunciarlo agli altri? Bene, anch'io è un segno di gratitudine al Signore per l'opera di misericordia che ha fatto nella mia vita attraverso questo cammino di fede, che è il cammino neocatecomenale, per questa allegria che mi ha messo dentro, che mi ha dato uno scopo nella mia vita, mi ha rigenerato internamente, do la mia disponibilità totalmente a Lui per fare la Sua volontà. Infine Antonio. La gioia del mettermi a servizio del Corpo di Cristo che è la Chiesa.